Inizio della settimana sui mercati del cripto, un po' deboluccio però un po' di stand by, un po' di pausa dopo il crash, flash crash della scorsa settimana che tra le altre cose chiude, ragazzi questo lo vedete anche voi dal candelone rosso a meno 10.56, chiude la peggiore settimana in pratica dall'inizio della nuova fase rialzista da novembre 2022, quindi praticamente stiamo parlando quasi di otto mesi, nove mesi e chiude la peggiore settimana, il peggiore candelone rosso in termini di ribasso, tra le altre cose una long black candle, in questo caso red ovviamente ragazzi però si definisce così, pattern che stiamo vedendo e cioè un pattern di forte fase ribassista. Tra le altre cose nel scorso video, quello di venerdì abbiamo parlato del fatto che Bitcoin ha anche breccato la media mobile a 26 settimane, cioè media mobile del ciclo annuale e in tal caso sostanzialmente abbiamo una conferma fondamentalmente del fatto che il trend che abbiamo visto delinearsi da novembre del 2022, questa fase teoricamente in questa zona qui è terminato, è terminato da un punto di vista tecnico, questo non vuol dire che poi non possa riprendere una fase di trend rialzista successivamente fra un po' di settimane, però teoricamente questa zona qui, quindi questo impulso rialzista termina con il break di questa media, manca l'ultimo dettaglio tecnico da un punto di vista proprio di lower low in questo caso, quindi la parte bassa, i 25 mila dollari che se venissero breccati confermerebbero non soltanto la conferma del break della media mobile a 26 settimane come vi sto dicendo, ma anche la conferma sul price in quel caso, quindi inequivocabile anche da un punto di vista statistico matematico. Cosa significa? Qual è la differenza tra questo break e quello che può avvenire in questa zona? La differenza è che questo trend che noi abbiamo visto dal novembre del 2022 è terminato, però il mercato non è passato ad un trend al ribasso, bensì si è inserito in una barra di congestione, quindi quello che probabilmente sta facendo è una barra di congestione. Se invece venisse breccato questa zona ribassista che vediamo a 25 mila, questo livello di supporto, il trend attuale non sarebbe più configurabile come una barra di congestione, ma sarebbe configurabile come un'inversione, quindi un trend di nuovo ribassista. Voglio porre l'accento anche su una serie di questioni. Abbiamo parlato già da mesi sostanzialmente che Bitcoin poteva spingere l'ultimo impulso rialzista in tempi brevi, perché il tempo stava scadendo, si dice così in gergo tecnico per gli analisti ciclici, e teoricamente non c'era molto spazio poi nel dare appunto un altro impulso rialzista appartenente al trend in questione, cioè questo qui che abbiamo delineato. Il tempo era in fase di scadenza, quindi o in questa zona decideva di fare l'ultimo impulso rialzista prima dell'eventuale correzione, oppure andava direttamente a fare la correzione. Ed è quella strada che sostanzialmente ha scelto il mercato. C'era questa possibilità e tra le altre cose anche il mancato superamento della zona di livello di resistenza, che è la zona di resistenza in close settimanale, questo è un grafico settimanale, è 31.000 dollari, poi nelle high ha fatto anche livelli un po' più alti, in questo caso prezzi bit stampi intorno ai 31.500-31.800. Però sostanzialmente è questo, è un livello di resistenza che non è mai stato breccato, quindi qui c'è un doppio massimo, doppio massimo che ha innescato questa struttura. Ora, fin tanto che questa zona reggeva, quindi le due medie mobili come vi dicevo è la zona a 26 settimane, medie mobili a 26 settimane reggeva, la possibilità di poter dare l'ultimo impulso c'era ancora, ma con il break di questo livello avete visto anche voi stessi come molti poi hanno venduto, c'è stato un sell-off generale causato appunto dal breakout di questi livelli e anche da una questione ciclica, puramente ciclica, che ci indica che sostanzialmente il tempo vira verso il negativo, perciò c'è stato un sell-off. Attenzione adesso al livello di supporto. Il livello di supporto dei 25.000-24.500, come sempre, ben sapete, io non uso un livello singolo perché non ha senso su questi mercati, soprattutto perché non ci sono prezzi identici per ogni exchange, soprattutto nell'autospot, parliamo anche poi tra un po' della questione del future CME di Bitcoin, che secondo me può essere analizzato in maniera abbastanza tecnica, perché inizia ad essere molto importante. Tra le altre cose, non spoilerone del grafico che vedremo tra poco ragazzi, guardate anche la questione dell'area temporale di Max in tempo, in memory abbiamo messo questo dettaglio qui su, è rispettato a livello perfetto dal mercato. Questo è un'area temporale di Max dovuta all'analisi ciclica, quindi queste strutture si vanno poi a prevedere, diciamo così non mi piace questo termine, non lo sapete, comunque si vanno a creare degli scenari possibili, e in questo caso sono previsioni possibili, in base all'analisi ciclica. Quindi questo che vedete in questa zona, quindi area temporale di Max e di massimo del ciclo annuale, era dovuto alla struttura dell'analisi ciclica. Tornando a questa questione, il livello che possiamo vedere in questa zona 25-24.500 deve reggere, soprattutto in close, che il mercato faccia la shadow ribassista e poi recuperi non è un problema, perché come l'ha fatto qui anche in altre volte, può succedere una cosa del genere. Quindi dovesse veramente avvicinarsi a quel tipo di livello, ci sarà volatilità da ridere, perché probabilmente il mercato tenterà il breakout, quindi potrebbe poi innescare un panic selling e subito dopo un recupero come fake breakout. Solo con strategie mirate di trading, e solo per chi ama il trading veramente veloce, quasi lo scalping potremmo dire, si possono trattare quei tipi di momenti. A differenza di quel tipo di tecniche, per trattare eventuali breakout bisogna agire anticipatamente, quindi qualche giorno prima, perché con i mercati così veloci e soprattutto liberi, come i mercati dell'ecrypto, puoi trattare nel momento in cui avviene breakout, non è possibile a meno appunto di essere scalper e fare operazioni velocissime, che però lasciano il tempo che trovano, perché comunque il cosiddetto rischio rendimento non vale mai la candela, soprattutto in questi mercati, quindi in parte che poi uscite di testa, quindi vi sconsiglio ovviamente, però da un punto di vista pratico, quindi se volete essere dei trader pratici, sì, quello sì, pochi spicci, giusto per fare dei test che vi servono più a mo' di formazione, quello sì, assolutamente, è sempre tutto molto utile. Allora, l'eventuale fase di ripresa, un'eventuale possibilità di ripresa di questo trend è possibile adesso, perché questa è un po' la domanda, cioè in questa fase abbiamo visto il trend in questione è terminato, siamo andati in un trend attuale che è il trend della lateralità, quindi barra di congestione, questa barra di congestione può sfociare nuovamente in una ripresa del trend a rialzo e quindi identificare questa zona come una barra di riaccumulazione, ragazzi, ok? Perché le barre di congestione possono essere barre di distribuzione o di riaccumulazione. Questa è la vera domanda che dovremmo farci per un po' di tempo ed è quello che seguiremo da qui in poi, ragazzi, quindi probabilmente fino ad almeno novembre. Se questa zona attuale può essere considerata ed ha una probabilità importante di essere una riaccumulazione, allora nell'ultima parte del ciclo annuale Bitcoin potrebbe in effetti tirar su l'ultima spirale di Max. Come vedete io qui in questa zona vi ho messo un livello temporale dove ho inserito Max 1. Cioè Max 1 significa che in base alla struttura ciclica del ciclo del Laving, quindi frattale, ripetuto sostanzialmente dagli altri anni, che va bene considerarlo, va bene tenerlo in considerazione, ma ricordatevi che il passato non si ripete mai nello stesso modo nei mercati finanziari, quindi questa cosa non ve la dimenticate. Questa parte qui però, teoricamente, potrebbe essere un'area temporale di massimo qualora questa barra di congestione fosse identificabile come una barra di riaccumulazione prima della chiusura del ciclo annuale di Bitcoin. se questa barra non è una barra di riaccumulazione ma è una barra di distribuzione e il mercato va a breccare questo livello 25.000, 24.500, inizia poi la fase di chiusura del ciclo annuale. attenzione perché più veloce è il movimento correttivo, questo qui, meglio è per lo scenario numero uno, cioè se questo movimento correttivo dovesse effettivamente tentare il breakout di questo livello molto velocemente, nelle prossime settimane, quindi non a novembre per intenderci, teoricamente potrebbe essere migliorativo rispetto al concetto che qui potremmo ritornare effettivamente a vedere un nuovo trend di rialzista. C'è poi anche il cigno nero, cioè il fatto che sia talmente debole che va a breccarlo qui e poi praticamente fa un doppio minimo crolla in maniera inesorabile anche al di sotto dei minimi di novembre che sarebbe l'unico caso storico di Bitcoin dove il bear market ha fatto una barra, un trend di correzione e poi un nuovo minimo. È vero che alcuni cicli annuali come per esempio quello vecchio, quello precedente, hanno fatto dei doppi minimi come questo qui, molto vicini, quindi dei minimi molto vicini, però in realtà vedete la distanza da un punto di vista di range di prezzo è comunque accettabile, un 25%, quindi non è un vero doppio minimo e tra le altre cose questa shadow ribassista è tutta creata dalla giornata del Covid, il famoso marzo del 2020, esatto, quindi questa zona qui, pensate che solo all'interno di questa settimana il mercato era andato down fino a un meno 52%, quindi questa è ovviamente uno shock dovuto alla pandemia, probabilmente il mercato avrebbe fatto una struttura correttiva così e magari sarebbe ripartito, quindi come vedete la struttura dei cicli con un eventuale doppio minimo o un minimo inferiore secondo me può essere considerata unica nella storia di Bitcoin, quindi io propendo per il fatto che se dovesse fare questo break velocemente potrebbe avere più chance di salire che piuttosto di crollare, perché a livello di probabilità dovessimo calcolare le probabilità a livello storico di Bitcoin è improbabile che faccia una cosa del genere, poi tutto è possibile come sapete, però a quel punto noi giocando i nostri scenari andremo sullo scenario che ha una probabilità maggiore, non si sbaglia mai, non si fa così, perché in un numero di volte ripetuto in cui vai andate a giocare queste partite, diciamolo così, scommesse tra virgolette, non mi piace proprio farla così, però in termini di probabilità si ragiona in questo modo, quelle che hanno probabilità maggiore poi alla fine vincono sempre, quindi insomma anche il singolo caso non ha poi impatto sul lungo periodo. Allora, definendo questa cosa qui andiamo a vedere una struttura ciclica che secondo me può essere estremamente interessante, qualora questa zona dovesse creare un altro minimo noi andremmo in pratica a identificare un 280 barra 300 giorni, a quel punto sarebbe interessante andare a comprendere che probabilmente il ciclo semestrale di Bitcoin non è mai avvenuto, cioè sostanzialmente Bitcoin ha creato, a quel punto avrebbe creato una struttura fatta in questo modo con 200 giorni, poi una struttura centrale con dei giorni un po' più piccoli e poi il finale così, quindi sarebbe in questo caso una struttura di natura eternaria. Certo, giustificare poi un eventuale nuovo massimo addirittura che fa i nuovi massimi nella parte dell'ultimo ciclo sottostante sarebbe un azzardo statistico in termini di analisi ciclica, però sostanzialmente ragazzi può ancora avvenire. Qual è la visione invece più rialzista, tra virgolette? La visione più rialzista è che il mercato non break questo livello di minimo che tra le altre cose sul grafico del CMM vi faccio vedere essere a 24.007 e il grafico del future su Bitcoin secondo me inizia ad essere appetibile per essere considerato in quanto i fine settimana soprattutto nel mercato delle crypto nell'ultimo anno sono stati poco rilevanti, non tanto rilevanti. Certo, ancora noi consideriamo il lato spot anche perché è quello vero di Bitcoin, però in questo caso io un'occhiatina la darei quindi se questo ciclo chiude, vedete, qui in questa zona e poi inizia una nuova campana rialzista non invalida la struttura rialzista del ciclo trimestrale in questo caso 74 giorni. Se facesse una cosa del genere in effetti siamo nell'ipotesi migliore di tutte cioè la possibilità che una struttura ciclica che chiuda a breve in una barra di congestione così senza un break importante di questo livello di quest'aria ragazzi possa tentare nuovamente di fare questa zona qui e quindi andare a creare magari un massimo effettivamente strutturato in questo modo. Sarebbe sempre una struttura ternaria di un ciclo annuale ternario però creato in forma con una pendenza maggiore. Allora, questo cosa significa? Che questo livello in termini operativi è stra-importante quindi qui anche tentativi eventuali sul touch di questo livello di un'inversione long ma non subito entro fine mese perché secondo me ancora è molto prematuro vi faccio vedere insomma la struttura teoricamente più probabile è intorno alla prossima settimana quindi lunedì 28 questa settimana io la farò passare ragazzi poi magari il trade così ma sono ancora in ferie quindi sostanzialmente non mi interessa fare diciamo molte operazioni però dalla prossima settimana un eventuale recupero con un'inversione di breve termine di questa struttura potrebbe perché no essere trattata long nella consapevolezza di quello che stiamo facendo cioè stiamo tentando la carta di questa ipotesi che vi sto dicendo che però a volte anche le cose un po' meno scontate sono anche quelle più profigue perché poi effettivamente se il mercato prende questa direzione saremmo entrate a un ottimo prezzo avremo la gestione dell'intera posizione in pugno perché saremo molto bassi quindi lo stop sarà ristretto avremo grosse possibilità di uscire in trading stop insomma è una gestione interessante secondo me il rischio rendimento accettabile il gioco vale la candela qual è il problema? il problema è che se dovessimo andare poi in breakout di questo livello bisogna ovviamente uscire infatti secondo me non si può fare una buy day dip in questa zona qui bisogna in ogni caso attendere una forza quindi un'inversione di una candela almeno un daily qualcosa che salga diciamo che ci possa indicare questo per esempio un grafico daily qualcosa che ci possa indicare una candela verde di inversione allora a quel punto fatta una cosa del genere vado long quindi non è una dip vi ricordo che non si va contro trend e soprattutto non in questo caso perché secondo me è poco poco utile poi i foldi ci sono sempre e qualcuno non lo farà però è poco utile va bene detto questo per questa settimana io opto per una stand by e guardare un po' il mercato vedere quello che fa perché dovesse effettivamente continuare lo sciacquone poi dovremmo aggiornare un po' tutte queste strutture e queste analisi e capire che effettivamente la struttura si è leggermente inclinata perché ragazzi vi faccio anche vedere una immagine che è poi il quadro generale e chiudiamo così allora qui abbiamo fatto un doppio massimo sostanzialmente con i massimi storici di bitcoin il bear market ha creato una struttura ribassista questa gamba può essere ancora considerata una gamba correttiva di un ABC correttivo e quindi con questa struttura che identificheremo con la A questa è la B correttiva e poi l'ultima struttura ribassista che è la C finale se dovesse fare un ABC di questo tipo e il bear market a quel punto continua ovviamente un nuovo ciclo questo non è il precedente però continua in ogni caso sarebbe un'anomalia tecnica per quanto riguarda bitcoin la prima volta nella storia non ci sono dati fondamentali che ci fanno presumere una cosa del genere anche perché il prossimo anno è sostanzialmente un anno in cui non dovremmo avere ancora politiche restrittive in termini di tassi di interesse e soprattutto c'è la questione dell'approvazione degli etf però io questa view ve la faccio vedere che cosa ne pensate è possibile secondo voi che avvenga un'anomalia di questo tipo la prima volta nella storia di bitcoin cosa ne pensate scrivetemelo nei commenti buon inizio settimana e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao